benvenuti sul mio canale io sono la fatta tuttofare oggi vi propongo un baglioncino in fettuccia di cotone perfetto per il cambio di stagione dunque vi lascio subito all'occorrente per il mio progetto righe di stile ho scelto il filato king le fettucce in questo periodo dell'anno sono i filati ideali per creare dei capi di mezza stagione che siano maglioncini cardigan giacche giacche di taglio chanel i due colori che ho scelto sono il blu ed il cipria per quello che riguarda la taglia ho realizzato una taglia 42 un modellino piuttosto corto quindi il quantitativo totale di filato va rivisto ovviamente in base alla taglia alla lunghezza e al modo in cui andiamo a realizzare le maniche per quello che riguarda l'uncinetto andrà bene il numero 5 io intanto ho realizzato il primo pannello nel quale potete vedere tutta la sequenza dei punti ho scelto il punto v che è un punto semplicissimo e si presta molto molto bene per tutti i progetti che hanno dei cambi di colore in questo caso i colori sono solo due ma se vi piace l'idea di realizzare un progetto multicolor il punto si presta veramente molto bene faremo una fascia sottostante andremo poi ogni tre righe ad alternare il colore cipria con il colore blu e andremo a modellare la parte in alto per chi non ama lo scollo a barca vi mostro un dettaglio interessante per creare una scollatura diciamo rotonda poi ovviamente quando durante il tutorial saremo a quel punto della lavorazione vi darò un paio di indicazioni utili per quello che riguarda l'altezza e la larghezza del pannello il mio pannello misura 47 centimetri di larghezza per 40 di altezza quindi un maglioncino che nel mio caso arriva al fianco alto ciascuno potrà modificare queste misure l'altezza è la misura che va dalla spalla fino al punto in cui volete che arrivi la lunghezza della vostra maglia per la larghezza sarà la vostra circonferenza maggiore diviso 2 nel mio caso ho preso la circonferenza del seno perché con la lunghezza del maglioncino ai fianchi non arrivo detto questo vi servirà poi un numero dispari di maglie per avviare il vostro progetto per arrivare a 47 centimetri circa che corrispondono a metà della mia circonferenza prendo il colore cipria l'uncinetto numero 5 e vado ad avviare alle circa 67 catenelle quindi mi raccomando il numero di catenelle deve essere dispari in questo modo potrete facilmente replicare il punto che vi sto mostrando quindi in base al filo da voi prescelto e ai centimetri da raggiungere caricherete tante catenelle fin quando non arriverete ai centimetri giusti ricordandovi che il numero di catenelle deve essere dispari aggiungete la catenella per voltare e quindi rientrate nella maglia precedente seguendo maglia bassa più due catenelle che valgono da primo punto alto la prima riga è semplicissima non dobbiamo fare altro che ripassare tutta la catenella a maglia alta avendo 67 catenelle più una per voltare ovviamente avrò 67 punti alti alla fine di questa prima riga lavoro le ultime maglie alte e poi andiamo a fare la riga di ritorno per dare una texture leggermente diversa al bordo della maglia ho scelto nella riga di ritorno di lavorare due maglie alte semplici e due maglie a rilievo facendo almeno due righe riusciamo a conferire alla texture un effetto diverso e quindi conferiamo anche una buona elasticità io andrò a creare un intervallo di due punti alti e due punti a rilievo ma l'intervallo può essere cambiato a vostro piacimento potete fare anche un punto e un punto oppure fare un punto semplice e tre punti a rilievo qui proprio una regola precisa non c'è quindi faccio la catenella vado a lavorare una maglia alta nel primo punto a mia disposizione e poi comincio trovandomi nel rovescio del mio lavoro vado a prendere le maglie a rilievo dietro quindi passo prendo a rilievo dietro il punto e lavoro la maglia alta eseguo un punto a rilievo dietro anche nella maglia successiva quindi nelle due maglie seguenti una e due andiamo a realizzare due maglie alte semplici se volete enfatizzare ancora di più la lavorazione e mettere maggiormente in evidenza i punti potete fare due maglie a rilievo davanti e due a rilievo dietro io faccio quindi due maglie a rilievo dietro e due punti semplici quindi le due a rilievo dietro e le due semplici prese come prendiamo normalmente la maglia alta quindi come detto se volete rendere più evidente l'effetto di questa lavorazione invece di eseguire le maglie semplici farete due maglie a rilievo davanti e due maglie a rilievo dietro quindi prosegue in questa seconda riga vedete alternando due punti a rilievo dietro due maglie alte semplici quando termino la lavorazione avrò i punti invertiti quindi riparto sempre con la maglia alta oppure con due maglie basse sovrapposte maglie basse più due catenelle il modo di riavviare il lavoro può tranquillamente cambiare se avete un metodo che vi fa lavorare meglio usate quello che conoscete i punti una volta voltato il lavoro si presenteranno a rilievo davanti e così li lavorerete quindi lavorate le due maglie semplici così come si presentano quindi fate una maglia alta e un'altra maglia alta le maglie che abbiamo lavorato a rilievo dietro adesso si presentano a rilievo davanti e le prendiamo a rilievo davanti una e due e poi farete due maglie semplici questa è anche l'ultima riga per quello che riguarda il bordo inferiore ovviamente anche qui potrete decidere voi se fare anche più righe di lavorazione se vi piace l'effetto dell'elastico diciamo un po' più alto quando avrò terminato questa riga andrò ad avviare la lavorazione vera e propria a questo punto come detto riavviamo la lavorazione ripartiamo sempre con una maglia alta quindi faccio la catenella prendo il filo sull'uncinetto e rientro sulla prima maglia con una maglia apro con una maglia chiudo quindi vado a saltare la prima maglia a mia disposizione dentro nella successiva e qui lavoro due maglie alte quindi vado di nuovo a saltare una maglia di base e nella successiva ripeto due punti di nuovo saltiamo una maglia di base e nella successiva lavoriamo due maglie due maglie alte lavorate nella stessa maglia di base potrebbero sembrare degli aumenti ma non lo sono perché saltiamo una maglia quindi la maglia che non lavoriamo nel punto di base che saltiamo lo recuperiamo nel punto successivo pertanto il numero totale di maglia alla fine della riga rimane invariato quindi saltiamo un punto lavoriamo due maglie alte nella maglia successiva filo sull'uncinetto di nuovo saltiamo un punto e procediamo lavorando due maglie alte in una maglia a maglie alterne questo sarà il lavoro che in realtà poi faremo in tutte le righe successive terminiamo insieme la riga quindi saltiamo un punto lavoriamo l'ultima coppia di maglie alte nella stessa maglia di base dovrete avere avanzati due punti quindi saltate un punto nell'ultimo lavorate la maglia alta a questo punto della lavorazione dovete semplicemente voltare e riavviare con lo stesso colore una riga uguale a quella già eseguita quindi catenelle punto alto nella prima maglia di base adesso dobbiamo lavorare due maglie tra le due maglie sottostanti quindi si origina una sorta di punto v dato dalle due maglie lavorate insieme e al centro di queste due maglie ripetete nuovamente due maglie alte questa lavorazione l'abbiamo vista di recente nella borsa onda urbana e in altri progetti già presentati in passato questo amo chiamarlo punto missoni anche se ovviamente non è questo il suo nome perché quando viene utilizzato con tanti colori riesce ad avere una resa davvero incredibile quindi adattissimo non solo per realizzare capi di abbigliamento ma anche per esempio dei runner, delle copertine, dei tappeti soprattutto quando avete da smaltire dei filati quando avete tanti colori da mescolare ricordatevi di questo punto di lavorazione perché per la sua semplicità di esecuzione l'effetto finale del design è incredibilmente bello tanto più si utilizzano dei colori e procediamo in questa maniera completo la riga poi vado a tagliare il filo cipri e vado ad inserire quello blu concludiamo con l'ultimo punto adesso attenzione al trucchetto che vi sto per insegnare questa è la prima volta che ve lo mostro e dunque vi voglio far vedere come bloccare facilmente il filo quando abbiamo il cambio del colore fatto l'ultimo punto di solito cosa facciamo? una catenella e tagliamo il filo che poi con l'ago dobbiamo fermare vi insegno questo fate due catenelle anziché una sola e poi tagliate comunque il pezzettino di filo quindi una volta tagliato il pezzettino di filo andrete a sfilare l'ultimo punto prendete la codina e tirate con tutta la forza che avete dovete sentire due scatti fatti i quali come vedete il nodino praticamente sparisce totalmente all'interno del punto stesso il filo in questo modo è fermo in modo davvero perfetto voltiamo il lavoro e prendiamo adesso il filo blu anche per quello che riguarda il filo blu cioè il filo che dobbiamo andare ad inserire vi faccio vedere un trucchetto lasciate la codina leggermente più lunga e preparate un'asola a questo punto rientrate nell'ultima maglia lavorata dove avete lasciato la codina del cipria entro di solito cosa facciamo? lasciamo libera la codina e prendiamo direttamente il filo della matassa io invece prendo entrambi i fili quindi realizzo la maglia bassa più una catenella prendendo il filo più la stessa codina del blu lavorando praticamente queste due maglie il filo è già fermo quindi possiamo mettere parallelo il filo cipria e ricominciare la lavorazione lavorando le nostre coppie di maglie alte nelle coppie sottostanti quindi controllate di avere tutti e due fili sul retro del lavoro quindi il filo cipria parallelo e il filo blu avanzato sempre sul retro e lavorate le vostre prime due maglie alte a questo punto potete tagliare sia il filo cipria che il filo blu perché il filo cipria è bloccato tramite i due nodi quindi mettendolo parallelo per un paio di punti lo avete praticamente fermato mentre il filo blu si blocca perché lavoriamo sia il filo che la codina nei primi due punti quindi potendo tagliare sin da subito sia il filo cipria che il filo blu voi non avrete più fili da fermare per il resto della lavorazione quindi due trucchette interessanti che spero vi tornino utile io intanto procedo lavorando sia questa riga che la prossima con il blu e ci rivediamo al prossimo cambio di colore così rivediamo questi passaggi fate le due righe con il blu trucchetto quindi ricordate due catenelle anziché una tagliamo il pezzettino di filo lo potete tagliare anche più corto di come sto facendo io sfilate, tirate con forza fino a che non sentite due scatti che il nodo sia completamente nascosto nel punto di lavorazione questo filo lo metteremo parallelo in un paio di punti lo avremo praticamente bloccato e ricominciamo con il cipria lasciate la codina leggermente più lunga ripreparate un'asola sull'uncinetto e utilizzate entrambi i fili quindi i due colori cipria e due fili cipria li mettiamo in avanti realizziamo la maglia bassa prendendoli entrambi poi lavoriamo la catenella in questo modo li abbiamo fermati alla perfezione quindi rimetto parallelo il blu per i primi due punti e lavoro le coppie di maglie alte sulle coppie sottostanti quindi lavorate le prime due coppie possiamo voltare il lavoro tagliare le codine che sono rimaste quella del rosa e quella del blu e procedere vedete così facendo voi non avete fili da fermare quindi anche se fate dei cambi di colore più repentini non andiamo a praticamente a dover fermare tutti i fili quindi ricordatevi questa tecnica quando avete dei cambi di colore frequenti a questo punto dovete procedere alternando ogni tre righe il colore o create l'alternanza che più vi piace andate a costruire il vostro pannello ho terminato l'alternanza delle righe nel secondo pannello che è largo 47 centimetri questa è la mia circonferenza ok mentre per quello che riguarda l'altezza sono sui 40 centimetri se volete un maglioncino dal taglio più classico dovreste raggiungere una misura compresa fra 55 e 60 a questo punto vado a prendere due marca punti a sezionare la parte alta per creare uno scollo rotondo quindi vado a lasciare 10 coppie di maglie alte per una spalla e vado a lasciare altri 10 coppie di maglie alte sull'altra spalla mettendo i due marca punti mi restano al centro circa 20 centimetri che vanno a corrispondere alla misura dello scollo questo è uno scollo piuttosto a giro quindi se volete uno scollo più ampio lasciate 22-23 centimetri al centro e meno sulle spalle quindi adesso andiamo a riavviarci sempre con il colore cipria faremo le nostre tre righe di lavorazione ma andremo a sezionare il nostro lavoro nel seguente modo mi preparo un po' di filo e vado a ricominciare prendo ovviamente il colore cipria mi lavoro entrambe le codine come vi ho mostrato per riavviarmi con una maglia bassa più una catenella e vado a lavorare tranquillamente le mie coppie di maglie alte quindi metto parallelo il filo blu dietro almeno per i primi due punti poi taglio le codine e procedo lavorando le mie coppie sulle coppie sottostanti fino a raggiungere il primo marca punti un po' di구나 ma un po' di lunedì si imos SVP lavoro le ultime coppie e arrivo fino al marca punti lo potete eliminare a questo punto lavorate le ultime due maglie al centro delle maglie alte sottostanti a questo punto la sezione centrale andrà lavorata sì ma maglia bassa in questo modo otterremo la parte centrale più bassa e quella sulle spalle più alta quindi andiamo a lavorare solo negli spazi al centro delle due maglie alte nello spazio successivo al centro delle due maglie alte e nello spazio successivo al centro delle due maglie alte e nello spazio successivo e così facendo arriverete fino al prossimo marca punti questo passaggio semplicissimo andrete a ripeterlo per tutte e tre le righe di lavorazione in questo modo il collo sarà perfettamente rifinito e non ci sarà bisogno di ripassarlo al termine del lavoro se volete uno scollo più ampio lasciate non 20 ma anche 24 centimetri quindi avrete meno punti da lasciare sulle spalle se invece il collo lo preferite più profondo potete lavorare in questo modo non per tre righe ma anche per quattro per cinque quindi potete iniziare dal blu e lavorare qualche riga in più e non soltanto le tre che vi sto mostrando quindi avrete modo di determinare sia la larghezza che la profondità dello scollo lavoro gli ultimi punti bassi fino ad arrivare all'ultimo spazio a mia disposizione dopodiché come vedete c'è di nuovo il marca punti lo togliete e in questa coppia ricominciate a lavorare le vostre maglie alte quindi le maglie alte al centro delle maglie alte sottostanti così terminerete la riga e andrete ad avviare le successive al termine della riga quindi non dobbiamo fare altro che voltare il lavoro ripartire sempre dalla maglia alta e ripetere la sequenza le coppie delle maglie alte sulle maglie alte e le maglie basse sulle maglie basse quindi punto alto per cominciare riprendiamo la lavorazione delle nostre coppie di maglie alte i marker gli ho tolti ma la lavorazione si distingue molto bene quindi procediamo fino all'ultima coppia disponibile lavorata l'ultima coppia vedete si distingue molto bene il primo punto basso cominciamo a lavorare nella parte centrale una maglia bassa per ogni maglia bassa della riga precedente lavorerete tutte le vostre maglie basse e poi di nuovo le coppie questa è la seconda riga farete la terza e il vostro secondo pannello sarà pronto il primo ve l'avevo già mostrato quindi nello step successivo vedremo come eseguire le cuciture realizzati due pannelli mettete dritti faccia a faccia quindi rivolti verso l'interno vi regolate vedendo le maglie a rilievo quindi dovete stabilire la profondità dello scalfo che nel mio caso di 18 centimetri ideali per una taglia sm messo il marker da un lato lo riposizionato poi dall'altro in questo modo so esattamente quali sono le due sezioni da cucire una e due quindi andrete poi ad eseguire le cuciture sulla spalla cucirete le maglie alte lasciando libera la sezione centrale lavorata a maglia bassa io come detto ho realizzato uno scollo giro piuttosto stretto vado innanzitutto a prendere l'ago a bloccare i primi due punti e faccio un paio di nodi per tenere fermo il filo in questo modo poi potrò eseguire la cucitura più comodamente vi ricordo che stiamo eseguendo le cuciture dal rovescio quindi andrò a cucire la sezione delle maglie alte sia da una parte che dall'altra lasciando al centro la sezione delle maglie basse chiaramente io ho fatto uno scollo rotondo vi ricordo che la misura centrale è di 20 centimetri per uno scollo più comodo potete lasciare 22 24 fino anche a 26 se invece quello che volete modificare la profondità dello scollo eseguite il lavoro che vi ho mostrato non su tre righe ma magari su cinque anche sei detto questo procedo cucendo prima una spalla poi l'altra e poi vado a fare le cuciture laterali un altro trucchetto che potete utilizzare quando siete incerte sul lavoro è quello di cucire le spalle senza fermare il filo quindi cucite una spalla e non fermate il filo poi cucite l'altra e provate in questo modo non avendo fermato il filo se avete dei ritocchini da fare lo potete fare quindi se lo scollo vi viene aperto sapete che potete cucire un paio di maglie in più non avendo fermato il filo viceversa se il collo vi sembra stretto potete disfare un paio di punti prima di fermare definitivamente il filo procedo quindi su una spalla poi sull'altra e infine vi mostro come fare le cuciture laterali ci sono due modi di fare le cuciture quando abbiamo a che fare con dei pannelli come questi a righe di colore innanzitutto la prima regola fondamentale è quella di far corrispondere le fasce di colore cipria con cipria blu con blu in altri progetti vi ho mostrato una tecnica cioè quella di cucire con il filo cipria le fasce cipria con il filo blu le fasce blu in questo caso avendo delle interruzioni di colore molto ristrette e non volendo tagliare fermare il filo tante volte possiamo fare in questo modo nelle sezioni cipria perché io sto cucendo col filo cipria fate una cucitura tradizionale quindi cucite e tirate per bene il filo quando poi invece arrivate nelle fasce del blu fate la cucitura orizzontale la quale si nasconde meglio visto che la cucitura è contrasto di colore quindi quando arrivate al blu prendete il punto in orizzontale vedete così prima da un lato e poi dall'altro di nuovo da un lato poi dall'altro ogni tot punti di lavorazione ritirate il filo mi raccomando perché i punti così come ve li sto mostrando sono lenti almeno lavoro comoda e poi vado a ritirare vedete quando tirate il filo il colore a contrasto praticamente sparisce e quindi su rosa poi potete decidere se continuare con la cucitura classica o con quella diciamo orizzontale l'importante che facciate quella orizzontale col blu in questo modo quando avrete risvoltato il lavoro il segno di questa cucitura sarà sparita importantissimo a mettere in corrispondenza le fasce di colore in questo modo facendo sparire la cucitura avete un effetto di tutt'uno sembrerà che il vostro pannello sarà stato lavorato in tondo e non a pannelli procediamo su ambo i lati fino a raggiungere il marker fatte dunque le nostre quattro cuciture non ci resta che riavviare le maniche io vi faccio vedere la partenza poi ovviamente sarete voi a decidere l'alternanza dei colori e la lunghezza io mi limito ad una manica tre quarti ma avete facoltà ovviamente di realizzare una manica lunga quindi riprendo in questo caso il filo blu e vado a lavorare le mie coppie di maglie alte sulle maglie alte sottostanti noi abbiamo praticamente le barrette delle maglie alte quindi diciamo che in ogni barretta vado a rientrare e a lavorare una coppia quindi faccio la maglia bassa lavorando sempre anche il filo iniziale e poi metto il filo parallelo così lo blocco ancora meglio e vado a continuare lavorando due punti nella stessa maglia quindi mi sposto nel punto alto successivo e ripeto vedete due maglie alte quindi procediamo lavorando le coppie di maglie alte dovete contare quante coppie riuscite ad inserire io ho inserito 22 coppie di maglie alte nell'altra manica quindi dovrò fare attenzione ad avere nuovamente 22 coppie anche da quest'altra parte così le maniche vi vengono uguali quindi mi raccomando questo è un dettaglio che non dovete mai dimenticare quindi entro nelle barrette delle maglie alte per ciascuna lavoro una coppia di punti adesso vi faccio rivedere la chiusura perché ovviamente fino ad ora abbiamo lavorato in linea dovete entrare posteriormente non nella catenella ma nella maglia alta della prima coppia quindi entrate sul retro del lavoro e andate a pescare l'asola e la fate passare portandola sul retro tirate in modo che le maglie si avvicinino poi cosa fate lasciate libera l'asola rientrate tra le prime due maglie pescate il filo recuperate l'asola posteriore fate le prime due catenelle e ricominciate la lavorazione questo metodo per fare la chiusura ve l'ho mostrata nella borsa onda urbana e la chiusura dei giri vi diventa del tutto impercettibile procedete andando a stabilire voi l'intervallo con il quale cambiare i colori infatti sulle maniche potete anche scegliere un intervallo diverso a questo punto io ho lavorato le mie fasce sempre con un intervallo di tre nella parte finale ho deciso di replicare il cambio del colore a tutte le righe quindi punto numero uno non dobbiamo tagliare il filo ad ogni riga di lavorazione e questo è l'effetto che voglio ottenere prima di arrivare a fare il pulsino quindi rivediamo la chiusura lascio l'asola di lavorazione vedete il filo cipria non è tagliato lascio l'asola entro nel punto alto prendo l'asola la prendo e la porto all'indietro col mio uncinetto tiro il filo blu così restringo l'asola e riavvicino i punti con il dito dovete tenere ferma l'asola posta dietro rientrare al centro delle due maglie a questo punto dovete pescare il filo cipria e non quello blu pescate il filo lo portate in avanti a questo punto rientrate con l'uncinetto nell'asola blu ritirate il filo blu perché l'asola è lenta ok quindi col filo cipria passiamo tramite le due asole facciamo un'altra catenella questo vale come primo punto e quindi ricominciamo quindi avete la chiusura perfetta dei giri e quando i cambi di colore sono praticamente una riga sì o una riga no potete anche evitare di tagliare il filo di lavorazione lo lasciate all'interno così quando chiudete un giro un giro il filo successivo il colore successivo è già a vostra disposizione quindi continuo lavorando il mio giro con il colore cipria lavoro l'ultima coppia rivediamo la chiusura quindi lasciamo l'asola entriamo nella maglia alta e non nella catenella prendiamo l'asola l'agganciamo all'uncinetto la portiamo dietro restringiamo l'asola tirando per bene il filo a questo punto dovete col dito bloccare l'asola cipria rientrate al centro delle due maglie alte recuperate il filo blu pescate il filo blu lo portate in avanti rientrate nell'asola del cipria e quindi a questo punto chiudete insieme le due asole un'altra catenella e si riparte io vado a creare questa alternanza e poi chiudo con tre giri di cipria ma questa fascia colorata la potete fare e poi potete riprendere le fasce alternate 3 a 3 se volete fare una manica lunga insomma avete facoltà di gestire l'alternanza dei colori come più vi piace le righe non sono assolutamente un'esclusiva primaverile in realtà questo è un capo passepartout bellissimo che potrete sfruttare tranquillamente tra marzo e maggio e rimettere dalla fine di settembre fino anche a novembre la fettuccia di cotone infatti è perfetta per il cambio di stagione quando è ancora presto per usare lane e acrilici ma abbiamo bisogno di una maggiore consistenza di un capo che sia leggermente più caldo rispetto a quelli estivi dalle trame decisamente più aperte la lavorazione è a pannello quindi non è una lavorazione top down pertanto è adatta anche alle persone con minore esperienza perché non ci sono tanti calcoli da fare per realizzare il pannello infatti dovrete tener conto di sole due misure per la larghezza del pannello la vostra circonferenza diviso due prendete nel mio caso ho preso la circonferenza del seno perché come vedete il maglioncino arriva al fianco alto quindi non ho preso la misura del fianco più basso anche se nel mio caso fianco alto, fianco basso e seno più o meno hanno la stessa circonferenza però ovviamente il maglioncino potrete farlo lungo allora prenderete la vostra circonferenza maggiore che o è qui o è qui la fate diviso due in questo modo potrete calcolare la larghezza del pannello se invece di una fettuccia di cotone decidete di replicare questo progetto con un altro filato estivo oppure invernale ricordatevi solo di avere un numero di spari di maglie quindi caricherete le catenelle necessarie per arrivare alla misura che avete stabilito quindi in metà della vostra circonferenza per quello che riguarda l'altezza io uso tanto i pantaloni palazzo sui quali sicuramente un golfino corto ha una lettura migliore altrimenti si appesantisce troppo la figura ma nel caso in cui lo desideriate più lungo prenderete la misura in centimetri dalla spalla fino al punto in cui volete che arrivi il vostro maglioncino quindi facendo due pannelli uguali avete di fatto realizzato la maglia vi ho poi mostrato come ricavare una scollatura rotonda senza dover fare grandi cose infatti ho mantenuto sempre le tre righe di lavorazione col cipria lavorando a maglia bassa la sezione centrale questo non solo vi evita la formazione dello scollo a barca che non piace a tutti ma non vi costringe a ripassare la scollatura perché già così è perfettamente rifinita se poi la volete ancora più ampia innanzitutto potete ridurre la distanza tra la spalla e questo punto quindi potete togliere due tre punti da una parte e dall'altra e in questo modo lo scollo vi viene più ampio ma potete partire anche dalla riga sottostante in questo modo il collo a giro viene anche più ampio la tecnica è la stessa decidere una scollatura e nella sezione al centro lavorare la maglia bassa anziché le coppie di maglie alte per la manica invece stabilirete voi se preferibile una manica tre quarti o una manica lunga essendo questo il primo capo della nuova collezione autun-inverno vai fatta tutto fare ho deciso di lasciare una manica tre quarti così con la prima rinfrescata lo posso subito utilizzare ho riavviato sempre tre righe per colore e nella parte finale ho deciso di cambiare il colore in tutte le righe di lavorazione potrebbe essere carino tenere questa texture anche laddove decidiate di fare la manica lunga per cui farete questa sezione all'inizio e alla fine e potreste tenere queste righe al centro se vi piace l'idea queste righe possono essere ripetute anche più o meno a metà dell'altezza del maglioncino e questo è il risultato finale le fettucce di cotone sono ideali in questo periodo quindi sicuramente potrebbero essere protagoniste di altri progetti in qual caso fatemelo sapere nei commenti se volete vedere giacchini, maglioncini o altri articoli con le fettucce di cotone come sempre giù le box informazioni vi lascio tutti i link di riferimento a me non resta che ringraziarvi ricordandovi come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati grazie per avermi seguito e alla prossima ciao